Minchia, scusate, non ho dovuto esistirci. Agnale, vai! Vai Alessio! Sì, ma piano cosa, è sport da combattimento, non è che ti puoi fare le carezze però? Madonna o... Sì, ma che ansia dai, ha tirato un locket interno che manco l'avrà sentito. Vai Ale, vai! Sai che cosa frega di Alessandro? È che lui è Mancino. Vai Ale, dai Ale! Vai! Vai De, non aspettare lui! Vai Ale, vai De! Vai De, non aspettare lui! Vai! Vai Ale, vai! Vai De! Vai Ale, vai! Vai De! Vai! 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 Di che cosa stai guardando? vai Ale, vai De! Vai! Vai Ale! Vai De! Vai Ale! Vai! Vai! ma non è durato nemmeno un minuto secondo me è senza finire un minuto c'è la differenza di fisica e il peso ma la differenza di fisica c'è l'altro c'è tutto il cantone e il cantone guarda c'è la musica 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 vai 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 lavorate vai 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 Te che non ne ha! Vai Ale, vai! Dai Ale! Vai, vai te che non ne ha! Sì, sì! Dai Ale! Noi morimo! Per chi? Per Ale, è la prima volta. Non ci sta! Nonostante... Per esempio il primo se la scuola faccia. Eh vabbè, ma il secondo è già sempre... Dai Ale, vai te! Lavora te! Vai te! Non aspettarlo! Guarda Marco che ride! Vai Ale, vai! Ehi! Ho fatto tutte le foto. Ho bloccato tutte le cose. Ho fatto insacchiare. Ho fatto insacchiare. Ho fatto insacchiare. Ho fatto. Ho fatto insacchiare. E' un piccolino. E' un piccolino. E' un piccolino. E' un bel torero. Ho fatto insacchiare. E' un piccolino. E' un piccolino. E' un piccolino. E' un piccolino. Ebbè ci stava, è stato bravo, è stato bravo, è stato bravo, è stato bravo, è stato proprio lavorato, ma io lo scego, lo vedo quando ci va con lui, quando tipo inizio io, lui non è in schianco. E ne va a darlo a voi, c'è una paura da 10 minuti.